Assessore, ogni uomo semplice a Pescara il 7 marzo ci sarà questa rappresentazione teatrale importante che parla della vita di San Francesco. Sì, questa rappresentazione narra appunto della vita di San Francesco. Gli autori sono originari di Agnone, hanno rappresentato questo musical nella loro terra e poiché il Vescovo, il nostro Vescovo, ha visto questo spettacolo ed è rimasto molto colpito ha ritenuto opportuno farlo portare anche in Abruzzo e ha chiesto loro appunto di portarlo anche qui. Questo spettacolo in Abruzzo partirà con la data di Pescara, però da parte loro c'è anche la disponibilità nel portarlo nelle altre parti, altre città d'Abruzzo. Il costo del biglietto sarà di 10 euro e una parte del ricavato sarà devoluta in beneficenza al Cenacolo Culturale Francescano Camillo Carlo Magno d'Agnone. È liberamente tratto da Forza Venite Gente che è un musical realizzato agli inizi degli anni Ottanta che ha avuto tanto successo ed è stato reinterpretato, modernizzato un attimo perché quello è un po' datato giustamente, sono passati tanti anni e ha una peculiarità e un'unicità nel suo genere che è interamente live quindi è un musical che viene cantato, recitato e soprattutto suonato dal vivo con una band di vari musicisti. Il Cenacolo Culturale è un contenitore di diverse attività sociali tra cui c'è l'attività teatrale, l'attività di musical, delle band c'è un'attività di giornale e c'è l'oratorio. San Francesco per noi è stato sempre un riferimento da quando eravamo ragazzini e quindi c'era questo forte desiderio di portare avanti questo musical che tra l'altro ha fatto parte anche un po' della nostra infanzia perché da piccoli eravamo innamorati di questo spettacolo e quindi siamo ben lieti di riproporlo.